wow questa torta è paradisiaca mi allungai per un altro pezzo quando sentì un ringhio dietro di me ti avevo detto di essere aggraziata no poi la mamma mi fece accostare per salutare una coppia elegante ancora mi guardarono dall'alto in basso ho sentito dire che sei una pianista di talento vorremmo sentirti suonare e il pianoforte non l'avevo mai suonato in vita mia senza farmi dire una parola mamma intervenne purtroppo fibi si è slogata il polso la prossima volta la guardai confusa perché avrebbe dovuto mentire così mamma perché hai detto che so suonare il piano ah sì forse mi sono vantata con loro che tutte le mie figlie adottive sono eccellenti che dire tutte le mamme si vantano dei loro figli no e sì sono cresciuta in un orfanotrofio prima di essere adottata da mia madre questo posto è enorme eh all'inizio ero sopraffatta e finì per perdermi nel cercare la mia stanza per fortuna ci sono molte delle mie sorelle adottive che mi indicano dove andare ne ho dieci sì avete capito bene dieci era come se mi fossi appena trasferita da un orfanotrofio all'altro solo che non ero più orfana è strano che siamo di età simile dato che i genitori adottivi spesso preferiscono i bambini dicendo che gli adolescenti sono testardi senza contare che mio padre adottivo non si è mai fatto vivo davvero non saprei dirvi che aspetto abbia quindi siamo solo noi ragazze io mi trovo bene con collins che ha due anni più di me e siamo in stanza assieme per quanto mi piacesse vivere con mamma e le sorelle la mamma ci faceva fare cose strane come mettere i vestiti smielati e camminare in linea retta peggio mi costrinsi a imparare a suonare il piano non ero per nulla una musicista facevo solo baccano mi insegnò a mangiare correttamente ma sembrava un addestramento per cani mi permetteva di mangiare solo quando faceva un segnale e quando riuscì a capire come usare le posate il pasto era già finito ma penso che sia così che ogni mamma insegna a sua figlia e a quanto pare la mamma non aveva più la pazienza di allenarmi così mi affidò a collins la sua coccolina ogni giorno passavamo un'ora a parlare insieme o meglio lei mi insegnava a parlare correttamente collins mi disse che dovevo controllare il volume perché tendevo a urlare le parole e non era molto elegante dovevo sussurrare al suo stesso volume e scegliere con cura le parole per mostrare intelligenza e grazia forse sarebbe più facile se d'ora in poi non dicevo nulla oltre a collins non ebbi la chance di conoscere le altre sorelle perché mamma fece sì che ognuna avesse un talento diverso che dovevamo eseguire per lei durante la valutazione mensile la mamma è molto gentile e premurosa ma troppo severa quando si tratta di addestramento perciò dovevamo dedicare molto tempo e impegno per esercitarci un giorno cercavo di capire lo spartito quando sentì lexi lamentarsi perché la mamma mi costringe a questa missione impossibile è così noioso cosa almeno il pattinaggio è mille volte più divertente del pianoforte se solo mi venne un'idea in mente quella sera andai da mamma e le dissi timida mamma voglio passare dalle lezioni di pianoforte al pattinaggio posso scambiarmi con lexi io cosa no ma perché a lexi non piace nemmeno pattinare beh è perché vedo del potenziale in ognuna di voi quindi è impossibile scambiarvi frustrata tornai in camera mia e mi lamentai con collins ma lei pensò non fosse un problema mamma sa cos'è meglio per noi beh di questo non sono molto sicura dato che non andavamo nemmeno a scuola lei diceva che la scuola a casa era sufficiente mentre io trovavo il suo metodo strano sognai una vita perfetta con una mamma fantastica ma lei non è mai stata molto affettuosa non importava quanto studiassimo o migliorassimo lobby da noi scelto non ci ha mai coccolato o elogiato nemmeno collins che è la più sveglia qui volevo davvero impressionarla così una volta ci volle molto a preparare un antipasto portoghese per lei ma lei diede solo un morso e disse che era buono le chiesi se non le piacessi ma lei disse sbuffando che ci aiutava ad avere una posizione alta nella società e una vita brillante ma io non voglio queste cose volevo solo piacerle questo posto è così soffocante e l'unico momento che riesco davvero a respirare è quando compro il pane il venerdì mattina poi all'improvviso qualcuno mi toccò la spalla e mi spavento al tal punto da farmi cadere le cose ehi sei proprio tu ma hai qualcosa che non va perché questa strana camminata l'unica cosa che so fare bene è comprare il pane ma ora l'hai rovinato vedi jet si chinò a prenderlo per me era ancora scortese come sempre ma mi ritrovai gelosa di questo suo spirito libero eravamo una coppia perfetta in orfanotrofio e è imbarazzante ammetterlo ma ero molto birichina all'epoca e spesso rubavo con lui potresti andare a rubare ancora un po ricordi i trucchi devo dirti tre cose primo sono stata adottata secondo la mia famiglia è ricca e infine mi è stato insegnato a diventare una signora quindi niente più furti ridicolo anch'io ho tre cose da dirti anch'io sono stato adottato i miei mi amano tantissimo oh e sono poliziotti ci guardammo e scoppiamo a ridere quindi eravamo entrambi catturati non è vero jet e io ci sedemmo su una panchina per aggiornarci e quando gli parlai della mia nuova famiglia mi fermò mi sembra così strano perché adottano solo ragazzine e a cosa servono l'addestramento e le valutazioni mensili poi jet voleva indagare sulla mia famiglia adottiva è una sciocchezza comunque è divertente ritrovare un amico e da quel momento decidemmo di vederci ogni venerdì ed ecco la mia prima valutazione non riesco a suonare nemmeno una melodia quindi dovetti studiare per altre tre ore al giorno le mie sorelle soffrivano di più kinsley fu costretta ad astenersi dal cibo perché pesava due chili in più dello standard willow invece ha dovuto mangiare continuamente di notte per guadagnare cinque chili se si è arrivati a tanto allora non deve essere stato solo per il gusto di vantarsi di una mamma giusto il venerdì successivo dissi a jet della valutazione della settimana scorsa lui disse fermamente che c'era un problema con la famiglia non credo proprio jet mamma vuole solo il meglio per noi ascolta phoebe credo che vi addestri di proposito ognuna deve essere brava in una cosa come gli ordini della spesa ordini non esagerare sai il manzo di kobe alle mucche viene fatto ascoltare la musica viene data loro della birra e vengono massaggiate ma alla fine si sa il risultato oh no è questo che siamo mamma diceva sempre che ci avrebbe dato il meglio a patto che lavorassimo sodo siamo state messi alla prova e timbrate come quelle mucche un giorno vidi collins fare la valigia eccitata mamma domani mi porta in una nuova scuola quindi collins stava per partire ma dove mi mancherai tanto scrivimi quando arrivi ma i giorni passarono senza una sua parola chiesi a mamma e mi disse che il duro lavoro di collins era stato ripagato e che fu accettata in una scuola prestigiosa ma c'era una regola niente telefono era sospetto così lo dissi a jet e lui volle che facessi rapporto sul caso un altro venerdì ci vedemmo in una chiesa vicino al forno perché aveva scelto questo posto noioso mi guardavo intorno quando vidi delle studentesse uscire dalla chiesa indossavano la stessa uniforme scialba avevano i capelli legati in uno chignon e si erano messe in fila obbedienti ma poi la vidi collins stavo per correre a salutarla ma lo sguardo della donna che l'accompagnava mi spaventò non era giusto dovevo chiedere a collins cosa succedeva così presi il braccio di jet e andai dietro al gruppo ma salirono su un'auto nera e si allontanarono forse hanno scelto questa chiesa come luogo per le loro transazioni furbi e hanno messo tutti in uniforme così nessuno sospetterà di loro ma vedendo quelle facce so che presto saranno mandate al mercato nero mercato nero il solo pensiero mi fecerà brividire dovevo salvare collins la mamma non l'avrebbe fatta franca quella sera scesi in punta di piedi per oriliare ok la mando questo weekend esatto è alta 1 e 70 sa pattinare cucina e pittura certo lo addestrata come richiesto non rimarrà deluso quindi l'accordo va come previsto ok ci vediamo domenica ecco la consegna successiva era lexi controllai la sua stanza e la vidi fare le valigie con un'innocente felicità sul viso scrissi velocemente a jet che mi rispose subito aspetta a casa con calma non agire senza pensare troverò una soluzione quella notte non riusci a dormire ero così terrorizzata che potesse accaderle qualcosa di brutto così la mattina dopo appena vedi mamma e lexi salire in auto mi infilai nel bagagliaio mi sdraiai senza fare rumore e inviai a jet la posizione l'auto ci mise molto a fermarsi eravamo arrivati al luogo della transazione quando mi sembrò sicuro scesi con cautela e vedi la mamma parlare con una donna di mezza età fastidiosa cosa aveva detto la mamma che spaventò così tanto lexi da stringere la sua mano la donna consegnò alla mamma una busta spessa poi prese la mano di lexi e la portò via dio dove era jet non potevo starmene a guardare mia sorella che veniva portata via lascia andare lexi ora fibi cosa stai facendo smettila vuoi venderci vero so già tutta la verità di cosa diavolo stai parlando fibi furiosa la mamma mi allontanò fermi di colpo due poliziotti si precipitarono ordinando a tutti di alzare le mani dietro di loro c'era jet ancora ansimante scoprì che erano i suoi genitori adottivi aiutatemi la mamma sta cercando di vendere me e mia sorella vedendo ciò la donna spiegò rapidamente no deve esserci un malinteso sto solo aiutando la figlia di gianna a iscriversi alla mia scuola sconcertata i miei occhi passarono dalla mamma all'altra donna nell'ufficio della preside dissi a tutti perché pensavo che mamma fosse una trafficante rimasero tutti a bocca aperta ti ho fatto esercitare così tanto solo perché voglio che tu entri qui nella più prestigiosa scuola per ragazze così che tu possa avere una vita migliore non voglio più andare in questa scuola mamma mi hanno detto tutte le regole severe questo posto è terrificante non puoi costringerle a farlo le ha adottate quindi deve farle sentire al sicuro e amate signora gianna questa è una scuola prestigiosa e non serve il suo scandalo lei mi ha fatto credere che le sue figlie fossero dotate e ora si scopre che sono tutte bugie d'ora in poi non accetterò più nessuna della sua famiglia no sono le mie figlie meritano il meglio poi implorò la preside di ritirare la sua decisione ma lei scosse la testa di colpo la mamma urlò perché voglio solo che non soffrano come me cosa c'è di male poi lei scoppiò in lacrime si scopre che in passato la mamma amava un politico ma lui decise che avrebbe favorito la sua carriera scegliendo di sposare una laureata di questa prestigiosa scuola la mamma lo amava così tanto che continuò a essere la sua amante ma nonostante fosse completamente mantenuta da lui si sentiva sempre inferiore alla moglie specie quando lui si vantava della moglie sveglia e delle figlie talentuose poi quando lei volle formare una famiglia lui non glielo permise alla fine decise di adottare delle ragazze e di addestrarle a eccellere così che potessero entrare in questa scuola senza badare al background ecco il motivo per cui ci fece questo devo ammettere che mi è dispiaciuto per lei tutto questo era per alleviare il dolore del suo passato ma mamma noi non vogliamo andare in questa scuola vogliamo solo che tu ci ami e ci protegga scusa tanto ho sbagliato cercavo solo di aiutare è tutta colpa mia poi mi abbracciò così alla fine io e le mie sorelle abbiamo finalmente una famiglia felice la mamma non ci fa più fare compiti stupidi ma ci lascia seguire i nostri sogni e passioni ora andiamo in una scuola pubblica e viviamo una vita normale è bello avere al mio fianco una mamma straordinaria delle sorelle incredibili e il mio fantastico amico jet